Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Io ho un carattere molto forte, infatti se una persona mi fa arrabbiare, divento una bestia. Carmelina, è tardi, devi andare a scuola. Mia mamma è Carmen Di Pietro, per chi non lo sapesse. È una showgirl, ha fatto molti reality. Carmelina è una ragazza intelligente, volenterosa. Però vorrei che facesse più i servizi di casa, tipo spolverare, passare all'aspirapolvere, fare la lavatrice. Guarda che montone! Ma che cosa fai? Non sa fare niente. A volte mi fa arrabbiare, perché magari io do dei consigli buoni da mamma e lei non ve li accetta. Non è vero. Dritta devi stare. Metti il capello, si arruffi qua. No, no. Caccia fuori l'anca. Cosa devo tirare? Ma che devo stare così? Non ho capito. Mamma, senti, posso dirti la verità? Non mi mancherai per niente. No, no. Ilami, sono un po' di più! Non mi mancherà! Cosa devo tirare? Allora, ti stai così? Si puoi!